Deve togliersi dei privilegi, l'Italia è finita, cioè la gente non ne può più della politica occorre togliere precedenti. Ma diciamo la verità, sarebbe scandaloso se fosse vera la tesi che si sostiene del cosiddetto diritto acquisito, perché le faccio l'ultimo esempio. Quando io apro una partita IVA e so che lo Stato mi dà una tassazione forfettaria al 5% fino a 30.000 euro che guadagno l'anno, ok? Quando poi quella tassazione, come ha fatto Renzi, mi viene moltiplicata del 300% e portata al 15%, quale avvocato mi difende esattamente? Perché? Perché le leggi si adeguano ai tempi. Quando i soldi ci sono si è più disponibili, quando i soldi non ci sono i sacrifici li devono fare tutti. E se tutti quelli che hanno avuto sono un diritto acquisito, gli altri non li facciamo proprio nascere perché non avranno mai un'opportunità. Nel dicembre 2012, quando il governo Monti approvò quel famoso provvedimento sul Salva Italia che ridisegnò il sistema,